Almeno 14 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola turistica di Lombok, nel sud-est dell'Indonesia. Il potente sisma ha provocato scene di panico, decine di persone si sono riversate nelle strade, abbandonando le proprie abitazioni e gli alberghi, in questo momento pieni di turisti. Stavo guardando la tv mentre facevo colazione con i miei figli, dice Zuni, sopravvissuto il terremoto, tutto ha tremato e ho visto il mio vicino di casa anziano che chiedeva aiuto, mentre il muro che ci separa crollava, grazie a Dio siamo ancora tutti vivi in queste case. Il sisma, il cui epicentro è stato localizzato a 7 chilometri di profondità, è stato seguito da oltre 120 scosse, di cui la più forte con magnitudo 5.7. Migliaia di abitazioni sono state danneggiate e il governo locale ha decretato lo stato d'emergenza per tre giorni. Inoltre, a causa del terremoto, una frana ha bloccato 560 scalatori e le loro guide su un vulcano attivo e da ore non riescono a scendere o essere raggiunti dai soccorsi.